In questi due giorni che abbiamo voluto dedicare alle politiche sociali, alle politiche a favore dei più deboli, ci è parso significativo avere la testimonianza di un papà che ha vissuto direttamente questa tragedia del bullismo che è diventato ormai un problema sociale diffusissimo nel mondo delle scuole. La mia presenza qui testimonia proprio questo, la solidarietà ricevuta da tutti. In primis qui c'è il sindaco del comune dove viviamo e dove è accaduto il fatto, c'è la regione nella figura del governatore che subito si è mossa e spera che adesso dalle parole e dalle pacche sulle spalle si passi ai fatti.